Palestre, ristoranti, imprenditori dello spettacolo, mondo sportivo. In Piazza del Popolo a Fenza, seconda manifestazione di protesta dopo l'ultimo decreto del governo e la chiusura di determinati settori. Realtà che avevano investito per rispettare le nuove norme di sicurezza che sono state colpite dalle chiusure. Al posto delle serrande abbassate, lo hanno ribadito in molti durante la manifestazione, sarebbe stato meglio avviare una serie di controlli a tappeto o a campione, ma lasciando lavorare chi rispetta le regole. Si vive male perché, al di là dell'incertezza della pandemia o comunque dell'emergenza sanitaria, c'è veramente tanta incertezza sulla continuità e la sicurezza del lavoro. Questo fa tremare tanti miei colleghi, tante strutture. Per assurdo la nostra struttura aperta l'8 gennaio ha subito due chiusure che sono veramente dure per le nostre casse e sicuramente non è uno stimolo ovviamente positivo per tutto il movimento. Appunto, l'hai sottolineato tu, sei fresco di apertura, ti sei un po' pentito di questa scelta? Col senno di poi direi di sì, ma una volta che sì, sono sempre per non pentirmi o di guardarmi mai indietro. Quindi sì, lo volevo, l'ho fatto. Ho sicuramente qualche responsabilità forse nella gestione, ma non di tutto il resto. Quindi quello che mi sento alla tua domanda, la risposta è no. Nel senso che sono contento di aver aperto e comunque voglio venirne fuori. Oggi l'avete sottolineato un po' in tanti. Volete più controlli, rimanere aperti ma con i controlli, quindi volendo anche con le multe poi alla fine con i controlli. Ma assolutamente, ci sta. Fatta la regola ci deve essere il controllo e poi chi non la rispetta ci deve essere la sanzione. Personalmente, con tutta l'onestà, posso dire, con tutto quello che abbiamo fatto, investito, ci siamo impegnati nel distanziare il maggior numero degli spacchi, di ridurre gli ingressi nei nostri locali. Non è stato fatto alcun controllo, ma nel giro anche dei colleghi, delle città limitrofe, dei controlli a random e per pochissimi sono stati poi generalizzati in scala nazionale. No, questo è proprio una presa in giro galattica. Questa è stata una cosa che non ci è andata giù. Quando appunto la settimana scorsa Conte ha detto palestra avete una settimana di tempo per mettervi a norma. Tu che cosa hai pensato? Sono un ottimista e guardo sempre il bicchiere mezzo pieno. Quindi per mia natura ho detto facciamo tutto quello che possiamo, miglioriamoci, riduciamo gli ingressi e lunedì 26 siamo aperti. Non è stato così. La botta è stata grossa perché comunque ci credevo e speravo che nella deadline che avevano messo, cioè nella settimana, si poteva fare meglio. Sicuramente nei controlli, perché se è vero che ci dai tu, Stato, delle regole e dei paletti, prima di prendere una decisione, secondo me anticostituzionale, cerca di fare dei controlli. Poi chi non rispetta viene sanzionato o punito, ma la maggior parte dei miei colleghi sono convinto che abbia fatto veramente di tutto per voler rimanere aperto e per poter lavorare.